potresti chiederti perché abbiamo bisogno di 90 giorni per ripetere l'analisi questo perché il corpo è in continuo cambiamento le nostre influenze epigenetiche condizionano in realtà non soltanto il nostro intero corpo ma influiscono anche sul nostro campo energetico tutti questi elementi si verificano perché stiamo adottando un nuovo modo di fare le cose ciò significa che abbiamo eliminato alcuni degli alimenti che hanno danneggiato la tua salute perché ne eri sensibile sappiamo che hai seguito religiosamente per tre mesi le indicazioni per consentire al corpo di adattarsi al nuovo cambiamento ci vogliono almeno tre mesi il numero 3 ha molto a che fare con la stabilità ciò deriva dall'aritmetica il numero 3 significa una trilogia ti faccio un esempio tu ed io diventiamo la terza persona che dà stabilità a me e a te allo stesso modo i 90 giorni sono divisi in 3 3 perché 3 volte 3 diventano 9 quindi quando facciamo ogni mese un rapido monitoraggio dei nostri sistemi per sapere come stiamo cambiando nel tempo possiamo renderci conto che i cambiamenti stanno avvenendo ma affinché diventino stabili abbiamo bisogno di 90 giorni epigenetica nutraceutica nutrizione prevenzione epi nutracel viale italia 147 la spezia per info epi nutracel chiocciola gmail.com 393 91 42 000 0 187 17 80 859 grazie a tutti Grazie.